questo ragazzo si chiama sebastiano chiavazzo e proprietario di un negozio di integratori benvenuto benvenuti a voi allora quindi dicevamo punti di vista differenti per l'utilizzo di integratori quali e quant'altro allora io voglio fare una premessa esatto abbiamo detto sono sebastiano chiavazzo sono il proprietario e l'ideatore di questo punto vendita di integratori e di produzione di integratori anche conto terzi epifarma nasce da un'esigenza che un gruppo di noi ricercatori abbiamo avvertito come vuoto commerciale nel territorio italiano noi quindi siamo dei ricercatori nel nostro gruppo ci sono medici naturopati e biologi ci occupiamo di portare nel territorio italiano alcune conoscenze che sono della medicina tradizionale cinese quindi ciò che facciamo noi non è un'integrazione tradizionale quella che siamo soliti vedere sul territorio italiano ma apportiamo le conoscenze millenarie di alcune filosofie come la medicina ayurvedica e la medicina cinese alle innovazioni nostre italiane quindi epifarma nasce con questo scopo quindi questo gruppo di ricercatori ad un certo punto ha trovato un vuoto commerciale che ha voluto in un certo senso col mare quindi da noi si rivolgono le persone che hanno problematiche dalle più svariate in questo studio medico ci occupiamo di capire la problematica qual è e suggerire un integratore su misura della persona senti ma che diciamo cosa ti senti di dire c'è libertà di espressione da noi e quindi puoi dire la tua sui network marketing di qualsiasi tipo che ti suggeriscono di acquistare quel tipo di integratore e che oltre al fatto di farti guadagnare che magari forse lì è sicuro che se ti impegni puoi guadagnare giusto però magari non è tanto sicuro che quel tale prodotto possa essere diciamo standardizzato e possa andar bene per tutti giusto con gli integratori non bisogna scherzare gli integratori possono essere ottimi e validi aiuti ma vanno scelti su misura da un esperto in questo settore quindi non bisogna mai improvvisare mai andare da soli su internet non bisogna decidere l'integratore giusto per sé bisogna cercare un valido supporto da chi in questo campo è realmente competente allora il tuo negozio epifarma così si chiama si ha la possibilità anche di di acquistare prodotti online dopo essere venuti da te perché credo che appunto sulla base di tutto il discorso serva prima di tutto fare una un testo una visita insomma farsi suggerire bene noi attraverso delle metodiche innovative che si chiamano test b explorer andiamo ad indagare l'individuo a 360 gradi a livello strutturale metabolico ed emotivo andiamo a capire la problematica della persona e in base a questo poi scegliamo l'integrazione che la persona può comprare fisicamente o può farsi arrivare da casa comodamente andando sul sito epifarma perfetto allora il sito era questo che volevo dire www.epifarma.it con il ph quindi farma epi ph arma quindi epi pharma il negozio è mia con l'alto sabino 120 la zona e biale libia e il numero di telefono per chiedere informazioni a sebastiano e chiavazzo è il 392 08 24 380 è stato un piacere parlare con voi e faccio un saluto a tutti dei radio ascoltatori grazie da condividere nella pagina epi pharma questo video che identifica proprio l'esperienza di sebastiano chiavazzo che è stato qui ospite nella notte di radio radio by night roma grazie a noi abbiamo finito qua per quanto riguarda epi pharma ciao 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 ciao